Hai mai provato a sdraiarti sul ponte di una nave e coprirti di aria e di cielo? Quanto è strano puoi tornare a dormire in una stanza e fino a un momento prima tutto va bene Poi all'improvviso si alza un timore Come un vento leggero il freddo si infila nel letto Come passarsi una piuma sotto il naso Come quando dici che tutto va male Poi all'improvviso una sua frase Si trasforma in emozione e in un brivido strano E adesso hai in mano una piuma Una piuma Come quando dici che tutto va male Poi all'improvviso una piuma